Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Anche se con un po' di ritardo non potevo farvi mancare le pagelle competenti di Torino, Sampdoria. Risultato finale 2-0 nell'ultima partita casalinga del 2022, prima della pausa mondiale e quindi all'Olimpico Grande Torino ci si rivede con l'anno nuovo. Si è chiuso appunto con una vittoria, molto bene, con una prestazione complessiva più che sufficiente, nonostante l'avversario sia venuto a Torino per sporcarci il match e non farci giocare, abbiamo avuto le intuizioni giuste e abbiamo trovato la chiave per aprire e poi chiudere con il gol del 2-0 nella ripresa di Vlasic. Una partita che poteva riservare delle insidie anche appunto per l'approccio che hanno avuto loro, contro il quale serviva un po' di inventiva. Della partita chiaramente abbiamo già parlato e anche se non c'era molto da dire, visto che quello che è successo in campo era abbastanza chiaro e comprensibile, non è stato un match con molti contenuti. Adesso scendiamo un pochino più nello specifico e proviamo a dare i voti ai protagonisti del match. E partiamo con Vanya Milinkovic-Savic, beh, è stato abbastanza inoperoso se si parla di dover parare, visto che la stamp non ha creato praticamente nulla. Credo che l'unica parata definibile tale di Milinkovic-Savic sia stata quella nel primo tempo, su quel colpo di testa ravvicinato di Montevago, ma poi null'altro. Diciamo che lo abbiamo visto spesso con i suoi rilanci lunghi ad arrivare all'area avversaria, provando anche a sfruttare il campo scivoloso, visto che diluviava Torino quella sera. Per risalire il campo, per provare a giocare su qualche seconda palla, per il resto direi prestazione da 6, perché non abbiamo altri elementi per poterla giudicare. Zima, direi prestazione da 6 anche la sua, ha affaticato un pochino nel primo tempo su alcune letture difensive, poi piano piano è venuto fuori, va detto che dalla sua parte la Samp non lo ha messo particolarmente sotto pressione e di conseguenza ha potuto giocare con un po' di tranquillità. È stata una buona idea quella di schierarlo, visto che l'avversario ti permetteva di giocare in un certo modo. Zima ha bisogno di mettere insieme i minuti, quindi anche a posteriori condivido la scelta del mister di mandarlo in campo dall'inizio. Scurs è la partita di Scurs, è durata 22 minuti, poi è dovuto uscire per un infortunio alla spalla, su quella zingarata offensiva in cui si è fatto 70 metri di campo, palla al piede ed è stato atterrato al limite dell'area di rigore da Amione, però fino a quel momento stava facendo molto bene, quindi io il voto glielo darei lo stesso, gli darei un 6,5, così come darei un 6,5 anche a Buongiorno che è entrato molto bene e che penso abbia vinto tutti e due gli aerei della partita. Nel ruolo di centrale nella difesa 3 aveva palesato qualche problema nelle scorse settimane quando era stato impiegato in quella posizione e anche qua vale lo stesso discorso di Zima, cioè se c'era una partita giusta per dargli continuità anche in maniera, diciamo, dargli un po' di rodaggio questa, era perfetta. Rodriguez, di nuovo titolare dopo la partita con il Bologna, come Zima nel primo tempo ha qualche problemino di letture difensive, poi nella ripresa invece un paio di chiusure salvano di fatto il risultato su ripartenze della Samp che ci potevano mettere in difficoltà. Gli diamo la sufficienza piena perché comunque queste sono le sue partite. Poi anche in costruzione ha provato a fare qualcosina, su questo secondo me è stato meglio Zima, ma complessivamente non si può certo dire che non abbia fatto il suo. Singo voto un 6+, a me è piaciuto Singo sinceramente, peccato che non ha, come dicevo anche nel post partita, non abbia spinto maggiormente da quella parte perché secondo me Augello poteva andare ulteriormente in difficoltà. Gli avrei dato sicuramente di più, ma il 6+, è comunque perché ha confermato le prestazioni contro Milan, forse un po' sotto rispetto al Pitacol Milan, ma sulla falsa riga della trasferta di Bologna. È stato molto attento nelle letture difensive, è cercato per quanto possibile di supportare l'azione offensiva, però ecco sottolineerei la fase di non possesso perché quando la palla ce l'avevano loro lui riusciva anche a sopperire ai movimenti non sempre perfetti di Miranciuk appunto quando si doveva difendere dietro la linea della palla. Quindi gara di sostanza la definirei quella di Singo e un 6+, per me ci sta. Ricci, io vi devo dire non mi è piaciuto granché, Gli possiamo dare un 6-meno perché da lui mi aspetto di più, soprattutto in partite bloccate come questa. Nel primo tempo ha perso diversi palloni sanguinosi, poi ha preso anche un'ammunizione che secondo me ci stava, anche se poi per come sono stati gestiti i cartellini dall'arbitro massa avrei qualcosa da ridire, però nello specifico non possiamo certo dire che il fallo di Ricci non fosse da giallo. Nel primo tempo ha avuto anche una buona occasione su un'imbucata in aria, un'altra occasione è stato fermato praticamente su un passaggio filtrante che lo avrebbe portato al tiro con l'arbitro che ha fischiato la fine del primo tempo, poi nel secondo tempo invece c'era da gestire un pochino più il pallone è cresciuto, però ecco io dal signor Samuele Ricci mi aspetto un po' più di qualità, soprattutto in partite contro avversari e reparti di centrocampo nettamente inferiori, quindi per me è un 6-meno. Linetti, voto 6, era la sua partita, sotto il diluvio, campo pesante, gran palloni da recuperare, serviva a corsa, dinamismo, e lui queste cose lo sappiamo. Lea, infatti penso sia stato il giocatore del Toro che ha recuperato più palloni di tutta la partita, forse di tutta la partita compresa anche la Samp, un paio di serimenti in area di rigore li ha anche fatti, ma non è mai stato servito bene, quindi vista anche l'emergenza, e sapevamo che Linetti e Ricci avrebbero giocato sicuramente 90 minuti, vista l'indisponibilità di Lukic, il 6-pieno Linetti se lo merita. Voevoda finalmente, finalmente, dopo come era entrato col Bologna, vi ricordate, mi ero arrabbiato parecchio, perché aveva avuto un impatto negativo il suo ingresso sulla partita del Toro, invece, fortunatamente, contro la Samp, va dal primo minuto, si riprende la sua fascia sinistra, gioca con molta qualità, anche palla al piede, serve l'assist a Vlasic del 2-0, e più in generale da quella parte con lui si sfonda molto di più rispetto alla fascia destra. Dietro gioca una gara attenta, ma va anche detto che da quella parte la Samp non combina praticamente nulla. 6,5 pieno per il Kosovaro. Miralciuk, questo penso sarà l'argomento sul quale avremo più da discutere, probabilmente. Io ho letto dei voti che oscillano tra il 6 e il 6,5. Allora, per me Miralciuk il 6 se lo prende, perché comunque nel primo tempo fa un paio di giocate che creano la superiorità numerica, e nel secondo avvia l'azione del 2-0. Però è anche vero che da... Nel lasso di tempo che intercorre tra il primo e il secondo gol, Miralciuk sparisce di nuovo. Cioè, è un giocatore che va troppo a intermittenza per quelli che sono i miei gusti, per quelli che sono i miei gusti. Cioè, anche chi preferisce, qualcuno che si accende, con due giocati ti risolve la partita, va anche bene. È meglio averlo che non averlo, però secondo me... Secondo me... Miralciuk poteva fare molto, molto, molto meglio. Poi, se vogliamo mettere... Che sta ancora cercando continuità, ok, ma ormai siamo arrivati alla pausa. Quindi, diamogli un 6 di incoraggiamento, proprio perché ci può stare. Ma per me vale un po' il discorso che abbiamo fatto con Ricci. Io, da Miralciuk, mi aspetto... Mi aspetto qualcosina in più, anche perché ormai è più di un mese che gioca con continuità. Quindi, non sono molto d'accordo con i voti che trovo mediamente alti dati al trequartista russo. Idem Radonich. Cioè, come si fa a dare dal 7 in sua Radonich? Ragazzi, allora, se dobbiamo giudicare quello che ha fatto, certo che sono colpi importanti e la partita può anche essere da 7. però anche lui ha dei buchi in mezzo alla partita che, secondo me, danno da pensare. Danno da pensare anche sul fatto che godiamocelo quando è in serata perché quando non è in serata l'abbiamo già visto. Cioè, stiamo magnificando un giocatore che ha segnato due gol in 14 partite. Ora, senza nulla togliere nello specifico alla prestazione contro la Samp, ci può stare anche il 6,5 se vogliamo. però, se dobbiamo dargli un voto alto solo per il gol, per quanto sia stato comunque un bel gol anche nella sua costruzione intera e per l'azione fatta poco prima con la parata di Audero, per me è un po' troppo. Cioè, io mi aspetto... Io la vedo sotto un altro punto di vista perché allora, se devo dare un 7,7 e mezzo a Miranci o a Radonic allora a Vlasic non possiamo dare il voto perché superiamo il 10 per quello che è il mio metro di giudizio. E infatti, per me, con Vlasic non si può andare sotto l'8 perché, ecco, lui sì che dal primo al novantesimo ha messo qualità, quantità, sacrificio, corsa, abnegazione, ci ha messo tanta sostanza in entrambe le fasi di gioco ha fatto una partita clamorosa, super fuori ruolo, tra l'altro perché è comunque partito come falso 9 e sembrava di avere un vero centravanti lì segna un gol fa un assist sul primo gol di Radonic ogni azione che il Toro portava avanti almeno un tocco di palla era il suo ha un fisico che gli ha permesso di sparigliare l'intero reparto difensivo della Samp ecco, io per me è un giocatore così quello che ti fa la differenza non chi ha un colpo ogni tanto poi, le giocate estemporane teniamocene se riusciamo a capire come sfruttarle però, cioè, per mettere la partita di Miranci o Gerardo e quella di Vlasic ci sono categorie di differenza categorie di differenza io mi aspetto che tu all'interno della partita mi trovi anche un po' di continuità perché la continuità fa parte della prestazione ecco, spero di essermi spiegato per quanto riguarda i subentrati invece non c'è molto da dire perché di Buongiorno Buongiorno è stato praticamente l'unico sostituto che può andare a voto perché poi nel finale sono entrati D'Emba Sec e di Ilcan ma sono entrati praticamente uno all'ottantanovesimo l'altro al novantaduesimo per cui non possiamo chiaramente valutarli Juric voto boh, sei e mezzo perché la squadra ha fatto più o meno la partita che doveva fare è stato bravo a mantenere la calma dopo che comunque l'avvio era stato un po' così e fino al primo gol non si capiva bene dove poteva incalanarsi la partita fisicamente la squadra ha retto su un campo anche pesante e questo va sottolineato perché con il toro della gestione Juric non è scontato praticamente era in formazione obbligata quindi la questione dei cambi deriva anche da quello secondo me e insomma vince l'ultima in casa del 2022 contro una squadra di bassa classifica ci voleva dopo la sconfitta di Bologna sperando che il resto della concentrazione verrà e della preparazione, dell'attenzione e quant'altro verranno profuse per preparare la trasferta di Roma in modo tale da almeno fornire una prestazione sufficiente per provare a fare risultato poi che si riesca o meno è relativo perché alla pausa si andrà comunque a prescindere da Roma a Torino con una classifica abbastanza tranquilla che permetterà poi anche a gennaio di fare dei calcoli sia in campo che extra campo e i vostri voti quali sono? scrivetemeli qua sotto nei commenti li leggerò come sempre tutti molto molto volentieri iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre Forza Tor